Turno infrasettimanale per Pallacanestro Biella, che questa sera scende in campo a Pistoia. Ad accomunare le due squadre poche cose, i tanti ex e l'orso, comune simbolo delle due città. Per Biella si tratta di una gita inedita. Quando retrocesse in A2 nel 2013, Pistoia ne prese il posto nella massima serie. Insomma, le due squadre non si sono mai incrociate e in rosso-blu testeranno stasera, Palla 2 alle 20.30, il Pallacarrara, palazzetto caldo e pubblico tosto. Sarà un mese di marzo denso di impegni per Pollone e compagni, che si giocheranno una fetta sostanziosa della salvezza, per non dire tutta la torta, nelle sette partite in 25 giorni in programma, causa recuperi e rinvii. Pistoia è una delle big del campionato, ma Biella ha già fatto male a Dudine, Casale e Treviglio, sfiorando il colpaccio con Cantù, quindi i pronostici lasciano il tempo che trovano. Con la maglia bianco-rossa dei Toscani, tanti volti noti, dietro la scrivania il GM Marco Sambugaro, che nella sua parentesi biellese centrò discreti risultati, almeno sul campo. Soprattutto Carl Whittle e Lorenzo Saccaggi. Il giovane inglese a Biella è stato svezzato e cresciuto, divenendo un giocatore da Serie A, e il buon Sambu ha sempre fatto il possibile per tenerselo vicino. Energia pura, un toro, sempre utile sui due lati del campo. Capitano Saccaggi è un capitolo parte. Per lui, Pistoia è casa, fresco di rinnovo, ma con il rammarico, almeno per gli altri, che uno così forte avrebbe anche meritato di vedere il piano di sopra. Rispetto all'andata, i Toscani hanno sostituito Johnson, positivo all'antidoping, con Gage Davis, ma la squadra, forte e fisica, è sempre la stessa. Così il GM biellese Olla. Pistoia è la vera sorpresa della stagione rispetto alle previsioni. Hanno cambiato un americano, ma questo non ha influito sui risultati. Siamo tornati in corsa per la salvezza, facciamo un passo alla volta. È importante giocare un match vero per tutti e 40 minuti. Aggiunge Pollone. Ci aspetta una partita contro un avversario molto forte. Dovremmo iniziare bene e avere grande energia per tutta la durata del match, specialmente dal punto di vista difensivo. Sappiamo che il pubblico di Pistoia è molto caldo e può essere un fattore. Il rosso-blu scenderà in campo con una pittura giallo-blu sul volto, in sostegno alla popolazione ucraina in questo momento difficile.